Prende sempre più piede il mondo dell'agrobusiness, delle coltivazioni e degli insieramenti rurali. Anche l'offerta formativa si adegua ed è il caso dell'Istituto di Istruzione Superiore Cuomo Milone di Nocera Inferiore che ha presentato di decente il nuovo indirizzo professionale agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Grazie alle vaste aree verdi che circondano l'edificio, gli studenti del nuovo indirizzo potranno disporre da subito per le proprie esercitazioni di un laboratorio naturale di circa 18 mila metri quadrati. L'indirizzo agricoltura e sviluppo rurale offre inoltre svariate e molteplici possibilità occupazionali, lavorative ed imprenditoriali per i diplomati grazie alla virtuosità e l'operosità della provincia di Salerno nell'ambito dell'imprenditoria agraria e zootecnica. Nasce perché siamo convinti di poter dare ulteriori opportunità formative ai nostri ragazzi e soprattutto ulteriori sbucchi professionali. L'istituto agrario in una zona a vocazione ancora agraria come quella dell'agronocerino con delle produzioni importantissime a livello nazionale il nuovo indirizzo professionale nasce dalla recente riforma del 2017 in effetti comprensiva quindi di tutte quelle attività che possono riguardare l'ambiente, il territorio e quindi non solo l'agricoltura in senso stretto ma anche la silvicoltura o altro. L'idea è venuta sinceramente sia per il fatto che abbiamo a disposizione già un laboratorio naturale a favore dei nostri studenti quindi i nostri studenti non dovranno andare fuori dalla scuola non dovranno sostenere costi di trasporto o d'altro per recarsi sui laboratori che il primo laboratorio è proprio il verde, lo spazio verde quindi la nostra scuola ha ben 18.000 metri quadrati di area verde la nostra scuola qui a Nocera è in via degli Olivetani. Le iscrizioni quest'anno prendono quasi tutto il mese di gennaio quindi dal 4 al 25 le informazioni essenziali, tutti quelli interessati possono già trovarle sul nostro sito che è appunto l'Istituto Superiore Comumilone dove vi è una presentazione apposita con tutti gli sbocchi proprio per poter dare delle informazioni dettagliate. Grazie